Un tragico destino che accomuna madre e figlio a distanza di 14 anni, Maria Balducci, 63 anni, è morta sulla stessa strada che il 27 novembre del 2009 tolse la vita ad Aldo Bonomo, anche egli vittima di un incidente stradale su quella strada, la provinciale 238 che collega Trani e Corato. Nella notte tra sabato 29 e domenica 30 aprile, la Fiat Punto, sulla quale viaggiava la donna in compagnia del marito, 64enne, si è scontrata con una Golf condotta da un ragazzo di 24 anni. Entrambe le vetture viaggiavano in direzione Corato, l'esatta dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti, ma l'impatto è stato violentissimo, a tal punto da rendere la vettura dei coniugi irriconoscibile per i danni. Maria Balducci è rimasta incastrata fra le lamiere dell'auto, inutili i soccorsi giunti sul posto, la 63enne, parsa subito gravissima, è morta poco dopo il suo arrivo all'ospedale Bonomo di Andrea. Il marito Alfonso Bonomo è stato sbalzato fuori dall'abitacolo, scaraventato in una scarpata adiacente. Attualmente si trova ricoverato all'ospedale di Miccoli di Barletta, nonostante i diversi traumi riportati non sarebbe in pericolo di vita. Anche il 24enne che viaggiava sulla Golf è stato portato a Nosocomio Barlettano, le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni. Il terribile incidente è avvenuto attorno a luna di notte e sempre di notte, 14 anni fa, il 27 novembre del 2009, e sempre fra Trani e Corato, la Peugeot 206, sulla quale viaggiava il figlio della 63enne, Aldo Bonomo, si schiantò contro un muretto a secco, a poca distanza dall'imbocco per la provinciale 231. Il giovane aveva 21 anni, morì insieme alla fidanzata Caterina Stasi, 18 anni, e la cugina di appena 14 anni. Stavano rientrando da Corato dopo una serata trascorsa a Trani, proprio come Maria Balducci due notti fa. Anche lei strappata la vita sulla stessa strada alle porte di Corato, un terribile destino che ha unito madre e figlio a distanza di 14 anni. Grazie a tutti.